Ragazzi questo video vi consiglio di guardarlo fino alla fine perché è qualcosa di epico Buona visione Tutti ragazzi qui a Tristramastered Stiamo andando al mercato Stiamo andando al mercato Perché forse C'è Una Sabri Game Forse Se c'è facciamo un paio di foto Ci vediamo Ragazzi eccome qua C'è la Sabri Game Guardate C'è più gente qui che uova in questo balcone C'è più gente qui che uova in questo balcone Guardate ragazzi Guardate La Sabri Ha salita dai suoi fan Tutti che poi non voglio finire dentro qualche video Rimbattono tutto Attenzione persone anziane Attenzione gente Attenzione gente Non tsunami Attenzione Non va bene Non va bene Lasciami Non vi lascia In vestita la città C'è come avete visto ragazzi C'è più gente lì Che in quel bancone delle uova Rhett Ragazzi Piano piano ci arriviamo anche noi Piano piano ci arriviamo anche noi a fare a dopo eccomi qua ragazzi ce l'ho fatta ho fatto la foto con sabri gamer e l'amico andre non so che dirvi io il video non l'ho potuto fare perché per fare il video devo aspettare un altro giro quindi ho fatto solo la foto e vi metterò la foto forse oggi a milano andrò a vedere i mates tipo anima surry stepney vegas e ci vediamo lì ragazzi eccomi alla metro adesso saliamo le scade e arriviamo al duomo di milan ragazzi il duomo di milan eccomi qua ragazzi guardate eccomi qua al duomo di milano ragazzi adesso andiamo alla microsoft house dove ci sono i mates e per provare la beta di alowars ragazzi io adesso chiedo indicazioni perché non so dov'è via pausubio e ragazzi ci vediamo lì e vi lascio le ragazzi guardate che spettacolo guardate ragazzi il duomo alle mie spalle spettacolo ci ho chiesto informazioni e dobbiamo andare fare una strada lunga ha detto perché devo andare a piedi detto che è lunga a piedi e più avanti che diamo informazioni lo stesso piano piano c'è l'ho chiesto a uno ha detto e io sto demanano però non so dov'è ma ha detto chi di chi della polis ho chiesto la polis e la polis mia ha detto dove mamma mia ragazzi tutti guanchi 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 mamma mia oggi è pieno oggi sabato sabato pomeriggio domani si va a scuola qui mamma mia ragazzi guardate comunque guardate la maestosità del duomo adesso vedo se un altro mi riesce a dare informazioni sta via pausubio numero 21 ragazzi bisogna prendere il tram ragazzi che mi sa che è appena passato davanti ai miei occhi accidenti mosso bisogna vedere ancora ne ripasso un attimo accidenti 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 allora il 14 il 14 vediamo un po' qua 16 14 14 20 ogni 8 minuti e mi aspetta 8 minuti qua ragazzi ragazzi io non so se è riuscito a finire questo video perché c'è un tablet all'8% quindi se ce la faccio vi faccio vedere alcuni spezzettini così non farò video lunghi ma invece se ce la faccio dura un pochino faccio qualche video un pochino più lungo e se non ce la non ci arriviamo mettete mi piace ovviamente per il prossimo vlog mamma mia ragazzi guardate ragazzi la microsoft house ragazzi la microsoft 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 house ragazzi ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta adesso andiamo a prendere il ticket e a prendere il ticket ragazzi mamma mia quanta gente mamma mia guardate ragazzi cioè non so se mamma mia ragazzi guardate guardate quanta gente ragazzi mamma mia mamma mia mamma mia ragazzi è stupenda è nuovissima è stupenda mamma mia ragazzi ragazzi questa è la microsoft house cioè questo vlog è magnifico ragazzi magnifico adesso vediamo se poi dentro si può anche registrare se ci riesco faccio anche un po' le foto con i mates se le fanno adesso c'è la batteria scarica stop il video ci vediamo dopo ragazzi io vi lascio qui guardate che spettacolo ragazzi là ci sono i mates guardate che spettacolo ragazzi guardate che spettacolo allora ci sono i mates mamma mia ragazzi spettacolo ragazzi io vi lascio con questo panorama della microsoft house ragazzi è uno spettacolo spettacolo ragazzi ci dovete venire sicuramente mamma mia mamma mia spettacolo ragazzi siccome che io i selfie non li posso fare col tablet vi lascio a questa panoramica e poi ci vediamo al prossimo video ragazzi mamma mia ragazzi panico panico ragazzi panico panico ragazzi e noi ci vediamo grazie 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 ecco qui ragazzi sono uscito mamma mia ragazzi dentro c'è roba assurda mamma mia cioè c'è stupendi stupendi ragazzi io vi lascio con quest'ultimo panorama e la scritta della microsoft che sono fatto fare anche un po' di firme ecco un po' le firme vi ho fatto vedere il mio stemma di chi il suo cuore d'anima e allora ragazzi il video si può concludere qua e per questo vlog adesso arriviamo ai 15 mi piace fare un prossimo vlog epico oppure un prank sulla gente al centro di Milano però il prank lo facciamo quando arriviamo ai 30 40 mi piace qui a tasca guarda alla prossima ragazzi indovinate un po' dove sono sono alla Chinatown di Milano ragazzi non me ne ero accorto sapete non me ne ero accorto siamo alla Chinatown di Milano tutte scritte Zhuanguang Changi cong 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 me ne ero accorto io me ne ero accorto adesso tutti cinesi ma come mai proprio questi cartelloni la erano tutti cinesi Zhuangu Zhuanguang e vi volevo dire solo questo ciao damm un yeah un yeah Grazie per la visione!